salve ragazzi o saggio riuscito si sono riuscito l'ho convinto a rimanere ho detto voglio sottare una canzone a papà una canzone ci è rimasta Kai ne dobbiamo fare minimo due ha detto papà è veramente vado di fretta a giacorra devo volare ha detto nico ma chi bufa face se stiamo confinati tu non vuoi volare no ha detto papà è veramente non intendevo dire volare sul senso dell'aeroporto a topane e valice no la canzone volare ha detto quello volare una canzone bella è l'inno nazionale per gli italiani come noi all'estero però io volevo dedicarla a una famiglia che ce l'abbiamo qua su cuore edo francesco e daniela fiorentini e abbiate pazienza sta canzone bella la so ripetete la dedicamo con tutto il cuore so ripetete la dedicazione a farla su cuore edo francesco e daniela fiorentini e abbiate pazienza e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.